Di sostanza il Sassuolo l'ha fatta? Sì, dovevamo rialzarci da una brutta prestazione di domenica a Bergamo e secondo me abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra che è molto molto organizzata. Vedendo l'immagine, rigore per voi c'era, rigore per il Torino un po' più in due? Sì, anche in diretta non si è capito bene se Floro colpiva la palla o il piede. A questo punto del finale di stagione vuoi giocare e ti immagini di giocare? Noi giocheremo ogni partita come una finale perché dobbiamo far bene e dobbiamo metterci in mostra per l'anno prossimo. Che campionato è stato finora quello del Sassuolo? Buono ma anche con qualche alto e basso di troppo? Sì, abbiamo avuto tanti problemi di giocatori, fisici, quindi abbiamo avuto molti alti e bassi, quindi andiamo a chiudere al meglio.